Ed ora la visita a sorpresa di Papa Francesco a Greccio, il paesino Umbro dove San Francesco negli ultimi anni di vita volle rievocare per la prima volta nella storia la nascita di Gesù. Bergoglio è arrivato in auto senza avvisare nessuno, eccettuati i frati del convento, ed il Vescovo Diocesano Monsignor Pompili. Monsignor Pompili che abbiamo in collegamento con noi proprio da Greccio insieme alla nostra Cristiana Caricato. Buonasera Cristiana, te la linea. Buonasera da Greccio, siamo proprio davanti alla grotta dove nel 1223 San Francesco istituì il primo presepe. Qui oggi è arrivato Francesco, il primo pontefice che porta il suo nome con una visita a sorpresa. Devo smentirti Letizia perché in realtà solo Monsignor Domenico Pompili, il Vescovo di Rieti, era informato della visita. I frati, e tra poco ce lo racconteranno, non sapevano nulla. Anzi, si sono accorti dell'arrivo del Papa quando lui era già qui, dove mi trovo io, davanti alla grotta. E il cancello della grotta era chiusa per cui il Papa ha dovuto attendere l'arrivo di padre Alfredo Silvestri, che è qui accanto a me, che è il custode del santuario, che ha aperto il cancello e gli ha permesso di vedere anche la bellissima Madonna che è a latta, una delle immagini più famose e anche più belle che questo convento custodisce. Allora, chiediamo subito a Monsignor Domenico Pompili che cosa è successo. Quando è stato avvisato di questa visita, assolutamente a sorpresa? In realtà io, appena sono stato nominato Vescovo di Rieti, avevo, nel ringraziare il Papa, come si usa fare con una lettera, chiesto di visitare questa terra che è francescana per adozione. Però il Papa ovviamente a maggio non aveva dato alcun seguito. Invece, più di recente, ha fatto capire che sarebbe stato disponibile, nel periodo natalizio, a fare una visita qui per conoscere più da vicino il presepe e anche un po' questa esperienza di Francesco in questa terra reatina. E soltanto negli ultimi giorni mi ha precisato che sarebbe venuto oggi e naturalmente tenendo la cosa riservata per questo, i poveri frati sono stati colti di sorpresa e si sono andati in fretta e furia a preparare. Allora, diciamo che cosa è successo. Il Papa è arrivato in tarda mattinata, ha pranzato con il Vescovo a Rieti, un momento strettamente privato, lui solo con la scorta. Sì, sì, lui, diciamo, il Papa ha detto che, essendo una persona educata, voleva passare prima a salutare il Vescovo di Rieti. Poi dopo, da lì, siamo venuti qui nel primissimo pomeriggio e in questi giorni si teneva proprio distante da qui il meeting dei giovani di Greccio. Così ho chiesto se era possibile fare così una sorta di sorpresa. E devo dire che il Papa molto sportivamente ha dato la sua disponibilità. E così, proprio quando stanno per andare via questi 150 giovani tra i 18 e i 30 anni, dal fondo di questa sala è apparso il Papa. Per cui chi piangeva, chi stropicciava gli occhi, chi cercava di capire cosa fosse successo. Noi intanto vedremo anche le immagini amatoriali, assolutamente amatoriali, perché nessuno era informato della visita. Che cosa ha detto il Papa ai ragazzi? È stato, secondo me, molto efficace, perché trovandosi un ambiente, tutto sommato, a dimensione umana, anche lui si è sentito ancora più a suo agio. Ha parlato della stella e del bambino. Della stella che rappresenta un po' il mondo del desiderio che ciascuno deve coltivare, perché quando manca una stella vuol dire che qualcosa non va, che la vita si sta arenando. E poi ha parlato del bambino non soltanto come segno dell'incarnazione, ma anche come segno della priorità rispetto ai luoghi che sono considerati, appunto, secondari, periferici. E poi ha detto, ecco, queste due cose dovevo dirvi e adesso ve l'ho dette. Dopodiché il Papa con Monsignor Pompili sono arrivati qui, nel santuario di Greccio, che era la meta finale di questa gita fuori porta improvvisata. La meta centrale, in realtà, prima nella intenzione e ultima nell'esecuzione, diciamo così come si usa. E qui ha trovato la comunità che in realtà era faccendata nella quotidianità. Tant'è vero che padre Alfredo lei non aveva neanche l'abito? No. Poi, in fretta e furia sono andato al refettorio, ho messo il saio e sono venuto qui. Io, come dicevi, ho aperto il cancello e è entrato e la scena bella è quando ha baciato proprio l'altare, dove noi ogni giorno, ogni mattina, alle ore 8, celebriamo l'eucaristia. E questo è stato un gesto veramente commovente. Poi dalla grotta ci siamo spostati al dormitorio di San Francesco, dove dormiva Francesco. Poi siamo saliti al dormitorio di San Bonaventura. Poi abbiamo fatto una piccola sosta nella cappella di San Francesco, una cappella del 1228. E dove, insomma, lì abbiamo fatto, insomma, una piccola, ha lasciato una piccola dedica che, insomma, posso anche... Tra l'altro la possiamo far vedere. Che cosa c'è scritto, padre Alfredo? Ringrazio il Signore per questa grazia e gli chiedo di benedire la Chiesa, il Vescovo di Rieti, i frati, i fedeli e aiutaci tutti a scoprire la stella e cercare il bambino. Ritorna, quindi, la stella di cui ha parlato anche i ragazzi, è l'OAC di Gesù Bambino, che è una struttura che è qui vicino. Per la vostra piccola comunità, quattro frati, è stata una cosa straordinaria. Siamo ancora tutti emozionati e tutti e quattro siamo stati veramente felici. Perché comunque, nel poco tempo che avevamo, siamo stati tutti e quattro molto vicini, insieme al Vescovo. Poi siamo andati in chiesa e lui ha fatto una piccola sosta davanti a un presepe dove mi colpiva l'acqua. Insomma, lui si è fatto un segno di croce e anche noi, insomma, abbiamo fatto il segno di croce. E poi ha anche salutato fuori, c'erano circa 15-20 persone. Insomma, le ha salutati e ha chiesto di pregare. Qualche fedele che era riuscito a vedere. Monsignor Pompili, sicuramente una grande grazia, anche se improvvisa, anche se inaspettata, anche se breve. Perché dobbiamo dirlo. Ma il Papa tornerà a Rieti? Beh, questo è il nostro desiderio sommesso. E tuttavia dovremmo aspettare senz'altro che passi questo anno santo della misericordia. Perché, come è noto, è stata diramata quella nota della Sede di Stato che dice che appunto quest'anno non ci sono in programma visite. Però, perché no, non sognare nel 2017 che possa tornare in maniera ufficiale e magari conoscere qualcosina ancora di oltre rispetto a San Francesco, insomma, che in queste terre anche a Fonte Colombo e Poggio Bustone alla foresta ha vissuto. Siamo quasi in chiusura. Che cosa che le ha detto il Papa in queste ore che ha trascorso con lei, che l'ha colpita, che comunque rimarrà anche come momento di questa giornata? Mentre stavo con lui a un certo punto è squilato il telefono ed era... ovviamente non era il caso di rispondere perché io non avevo abbassato la suona idea. Lui mi ha detto, rispondi, rispondi. Dico, no, no, no. Dico, era un prete. Lui mi ha detto, vabbè, però in giornata richiamalo. Quindi le ha dato una piccola lezione su come si fa il Vescovo. Certo, questo qua. E alle nostre spalle la bellissima Madonna che allatta il bambino. Il Papa è rimasto particolarmente colpito, vero? Sì, anche perché obiettivamente questa è una maniera di raffigurare la Madonna molto carnale che nel tempo un po' è andata perdendosi e che invece qui è dato di poter apprezzare. Credo che questo sia in qualche modo molto vicino alla sensibilità di Francesco che nel voler riprodurre la prima forma del presepe ha voluto dare all'incarnazione una sua visibilità molto efficace. E allora, da Grecia è tutto, come avete capito, per Papa Francesco un'immersione non solo nella storia francescana che è un po' anche la sua storia, ma un'immersione nella fede popolare, nella fede e nella devozione del Reatino, questa grande terra che sicuramente ha ancora molto da dare e da far conoscere. Allora, linea allo studio e grazie naturalmente ai nostri ospiti. Grazie, grazie Cristiano.